Buongiorno e benvenuti nella veranda del piccolo giardino di Monfestino. Siamo a novembre inoltrato e le temperature autunnali si abbassano tantissimo. Siamo arrivati a due gradi di notte, quindi uno dei lavori da fare sicuramente in questo periodo è quello di portare al riparo le piante cosiddette tenere, le piante che alla prima gelata avrebbero veramente grandi difficoltà a sopravvivere. Vediamo quale abbiamo portato qui dentro con noi. Intanto cominciamo dalle talee che abbiamo fatto in queste settimane e in questi mesi. Ne abbiamo di legnose come liquidambar, ma abbiamo anche piante arbustive come il rosmarino, abbiamo il geranio e abbiamo qualche seme che è germinato e ha cominciato a fare la sua piantina durante l'autunno, cioè delle belle di notte e dei nasturzi. Qui abbiamo invece i nostri famosi noccioli di prugna che stanno crescendo. Queste piante vanno sicuramente riparate. Dietro ci sono, un po' in difficoltà con fioritura, diverse piantine di salvia che sono nate da seme, salvia splendens in particolare. Abbiamo portato al riparo il limone e qualche altra talea fatta durante l'inverno, più questi sono semi auto-seminatisi di Snapdragon, come si chiamano. Abbiamo la gerbera, le faremo fare un bel riposo vegetativo e un'alocasia. In veranda al riparo, già da qualche settimana in questo caso, quando siamo scesi diciamo sotto i 10 gradi, abbiamo tutta la famiglia delle Coleus. Questa è la nonna, la madre di tutte le Coleus, allargandoci da una talea. È nata questa bellissima figlia e qui ci sono le nipoti. molto bella la Coleus. In mezzo vedete fiorite ancora le dipladenie, anche appesa quella rossa. L'inverno è molto importante, se avete una veranda fredda, appunto, riparare le vostre piante all'interno, oppure se avete un appartamento e non avete questa possibilità, comunque di metterle all'interno, non sopra i termosifoni, ma vicini alla luce, perché per l'organismo vegetale la luce è fondamentale. Quindi, tranquillamente mettetele al riparo, avvicinatele alla luce, ai vetri. Magari non fategli toccare i vetri, perché potrebbero bruciarsi le piante. Questo è uno dei lavori molto importanti da fare in questo periodo, è da fare prima dell'arrivo delle gelate o di temperature troppo fredde che potrebbero rovinare le vostre piante. Quindi, dovete capire bene che tipo di necessità hanno le vostre piante in inverno, lasciarle fuori se possono stare fuori, oppure ripararle all'interno se ne hanno bisogno. E vedrete che in primavera vi daranno le solite grandissime soddisfazioni. abbiamo portato anche la calla all'interno, qui gli inverni sono veramente rigidi, si andrà sotto lo zero abbondantemente, quindi la calla e questa che è la figlia della pianta madre sono all'interno con noi. Proprio oggi abbiamo portato dentro anche la camellia, la camellia japonica, se riparata e piantata a terra, può stare anche all'aperto. Nel nostro caso, visto che è ancora in vaso, preferiamo portarla al coperto. Qui a fianco alla coleus abbiamo anche la nostra piccola raccolta di piante grasse, l'aloe e la figlia dell'aloe che abbiamo diviso. Qualche tempo fa c'è anche un video al riguardo. Questa invece è l'ultima nata in casa coleus, la pronipote della pianta originale, una semplice talea e questa pianta si mantiene molto facilmente. Poi proviamo anche a tenere delle annuali con noi. Abbiamo una petunia che è ancora in fiore, ma che poi potremo, per tentare di farla sopravvivere all'inverno, e il geranio, del quale per sicurezza abbiamo fatto delle talenze. In questo vaso invece abbiamo dei bulbi che quest'autunno, come vedete, hanno prodotto tanto fogliame e che probabilmente riusciremo a far fiorire entro l'inverno. Insieme a loro sono nate anche delle piante di bisco che avrebbero potuto tranquillamente stare all'aperto, ma visto che sono nello stesso vaso, le abbiamo portate all'interno. Anche qui un bulbo precoce e qui invece c'è la nostra famosa pianta, guardate, di avocado, nata da un avocado che è veramente in salute. Se invece avete dei vasi con dei bulbi potete lasciarli all'aperto perché non hanno nessun problema con il freddo, ma riparati dalle piogge intense. Altri vasi di bulbi, all'esterno, ma riparati dalle piogge. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello. All'esterno, ma riparati dalle piogge.